L'economia torna a crescere, con mille se e con mille ma, con situazioni ancora molto difficili e con settori che ancora sono in ginocchio, ma i dati dell'ultima parte del 2013 fanno intravedere una debole luce all'uscita del tunnel. È di oggi la notizia che il prodotto interno lordo italiano è tornato a segno positivo negli ultimi tre mesi del 2013, dopo oltre due anni di mancata crescita. La stima è dello 0,1% in più rispetto al trimestre precedente. E sempre oggi Camera di Commercio e Un'Industria Como hanno diffuso i dati dell'economia lariana per l'ultima parte del 2013. Numeri che, nella sostanza, confermano il trend nazionale. Oltre alle cifre ci sono le parole incoraggianti. Scrive Un'Industria, la ripartenza dell'economia è incarreggiata e si diffonde gradualmente. I segnali di ripresa ravvisati nel terzo trimestre 2013, aggiunge la Camera di Commercio, si sono consolidati in chiusura dell'anno. Sempre secondo i dati della Camera di Commercio, nel 2013 sono aumentati i fallimenti e nel quarto trimestre artigiani e commercianti fanno ancora molta fatica. Ma ci sono ottime notizie per l'industria. La produzione è aumentata del 2,6% e il fatturato dell'1,2% rispetto alla fine del 2012. Più complessa l'analisi di un'industria che accorpa le statistiche dell'economia comasca e di quella lecchese. Il contesto, scrive l'Associazione di Via Raimondi, resta difficile, ma deboli segnali positivi fanno pensare alla fine della crisi prolungata. Le attese sugli ordini fino a giugno 2014, ad esempio, prevedono un aumento del 2,4%. Un'industria prende in esame il secondo semestre 2013. Cresce l'attività produttiva lariana, sia rispetto alla prima parte del 2013, sia rispetto allo stesso periodo del 2012. Anche il fatturato, rispetto al primo semestre 2012, cresce. Si confermano invece le difficoltà per il credito. Il 25% delle aziende intervistate ha segnalato un peggioramento delle condizioni sulle commissioni bancarie. Le criticità quindi non mancano e non si può dire che l'economia stia marciando in quarta, ma l'evoluzione degli ultimi mesi è incoraggiante. I deboli segnali positivi, conclude Francesco Verga, presidente di un'industria como, fanno pensare all'avvicinarsi della fine della crisi prolungata. Servirà da collegamento tra le realtà locali, i piccoli gruppi delle nostre aziende,